ciao a tutti amiche amici benvenuti o bentornati sul canale per un nuovo video allora oggi come avrete letto dal titolo vi mostro i miei regali e auto regali di compleanno perché come sapete o non sapete non lo so se non lo sapete ve lo dico il 19 ottobre io ho compiuto 53 anni ebbene sì 53 anni ormai insomma l'età avanza però devo dire che io nonostante l'età sto vivendo penso forse il periodo più bello e sereno della mia vita in cui mentalmente a un equilibrio che quando ero più giovane non avevo assolutamente e devo dire che molto aiuta il fatto di essere in forma fisicamente sono sto attenta all'alimentazione chiaramente cerco di fare dello sport sapete chi mi segue su instagram lo sa mi vedono insomma che vado in palestra regolarmente anche se adesso sospeso per un po e ma soprattutto un discorso mentale nel senso che proprio è un discorso mentale nel senso che l'equilibrio che ho adesso a quest'età quando ero più giovane non l'avevo per cui benvenuti 53 non non ho paura di invecchiare perché sto più bene ora di quando ero più giovane e credo che il segreto sia comunque tenersi sempre in movimento non solo fisicamente ma anche mentalmente porsi sempre degli obiettivi degli scopi da raggiungere ecco dopo questa diciamo sermone di saggezza andiamo le cose più frivole che sono appunto il succo del video cioè appunto i miei regali autoregali di compleanno vedete che sono praticamente ormai sono sempre più chiara stamattina sono andata dal parrucchiere non lo so forse mi sono un po troppo schiarita questo giro non saprei fatemi sapere ho tagliato i capelli ho rifatto le schiariture ho tagliato i capelli ho fatto questo taglio non so se adesso si vede comunque davanti questo caschetto scalato che è davanti leggermente più lungo e dietro è più corto perché non sopportavo più tutta quella massa di capelli che avevo addosso io non sopporto i capelli lunghi troppo lunghi perché ce l'ho lisci piatti quindi avevo bisogno di sfoltire e di alleggerire quindi oggi stamattina sono tornata da un paio d'ore sono stata dal parrucchiere ho fatto questo questo taglio ok fatta questa tutta questa premessa vi faccio vedere appunto i miei regali autoregali di compleanno regali non ce ne sono tantissimi ci sono delle cose che mi sono dei regali pilotati sostanzialmente è un regalo inaspettato devo dire e poi tutte cosine che ho acquistato io e come avrete letto dal titolo vi devo raccontare della mia esperienza di dogana con il sito di pat mcgrà ebbene sì perché ho dovuto pagare ho fatto un ordine sul sito di pat mcgrà che poi vi farò vedere e ho pagato la dogana sul sito di pat mcgrà allora cominciamo con cominciamo a farvi vedere le cose devo dire che ho ancora gli scatoloni di dei prodotti eccetera però non so se riesco a farvi l'ordine di dove l'ho comprato perché alcune cose le ho rimosse sinceramente non mi ricordo più allora questo è stato praticamente regalo di mia mamma di mio figlio e pilotato sostanzialmente nel senso che mi sono stati dati i soldi poi chiaramente me li sono comprati io e l'ho acquistato sul sito di sensation profumerie volevo da tempo provare questo prodotto di clarence per la skin care e quindi ho detto dai quale occasione migliore quella del compleanno di farti fare un regalo al compleanno e quindi mi sono acquistata cioè mi sono acquistata appunto con i soldi che mi sono stati regalati questo cofanetto di clarence allora che cosa c'è all'interno del cofanetto ve lo faccio vedere tra l'altro era anche scontato questo l'ho preso sul sito di sensation profumerie aspettate che eccolo qui praticamente scusate alla rovescia si ve lo sto facendo vedere nella maniera corretta questo è il cofanetto bellissimo con dentro insieme clarence questo cartoncino clarence insieme ci prendiamo cura della bellezza delle persone del pianeta qui diciamo attenzione all'ambiente qui c'è una busta rossa praticamente vuota con un cartoncino rosso vuoto praticamente penso che serva perché si vuole fare appunto un regalo io nel mio caso il mio regalo era pilotato me lo sono comprato da sola praticamente per cui non è che mi facevo il bigliettino da sola e questa è nel cofanetto appunto è contenuta questa pochette devo dire pochette non è che mi ispiri particolarmente rossa con il bordo sul fucsia e il logo di clarence sul fucsia ma vabbè poi c'è questa fibbia dorata ma è il contenuto ovviamente che che mi interessava e il contenuto appunto è questo faccio vedere i prodotti allora c'è ovviamente il la full size del double serum di clarence questo è un prodotto che io volevo provare da tantissimo tempo solo che considerando il prezzo proibitivo non mi ero mai azzardata a comprarlo per quindi questa era l'occasione giusta questi penso che siano 50 ml comunque questo cofanetto è conveniente rispetto a acquistarsi diciamo insomma acquistarlo singolarmente e poi questa era una crema che mi ispirava tantissimo e che volevo provare c'è una mini taglia mini taglia si fa per dire perché comunque sono 15 ml di questa extra firming energy crema giorno anti rughe luminosità rassodante diciamo alle vitamine eccola qui e poi c'è anche una mini taglia sempre si fa per dire mini taglia da 15 ml di questa extra firming noi e crema rigenera anti rides quindi francese proprio zero veramente anche l'inglese ho dimenticato purtroppo wrinkle control regenerating night cream eccola qui sono contentissima perché la skin care di clarence non ho mai provato niente a parte qualche campioncino quella devo dire che sapete che clarence è un brand che mi piace molto per cui insomma mi sono voluta acquistare questo e l'ho fatto sul sito di sensation profumerie che devo dire la mia profumeria in assoluto preferita per quanto riguarda questo genere di acquisti anche di makeup insomma la mia profumeria online preferita perché ha un ottimo rapporto qualità prezzo e poi danno anche un sacco di omaggi infatti ragazze guardate che omaggio c'era con questo con il cofanetto io comunque ho ricevuto un altro omaggio che ho questo mini cofanetto dove c'è dentro vabbè questo lo faccio vedere da qui magari non lo apro perché sennò penso che mi venga un video piuttosto lungo allora c'è il dux nettoiam musan idratan quindi diciamo dovrebbe essere un detergente viso da 30 ml poi c'è una mini taglia di da 0,9 ml sempre del double serum double serum e poi c'è la maschera cryo flash cream mask che dovrebbe essere questa maschera in crema nuova con questo effetto refrigerante sul viso e sono molto curiosa di provare e poi c'è un'altra mini taglia sempre da 15 ml di extra firming nui quindi praticamente io già tra questo e il cofanetto grande che vi ho fatto vedere ho un 30 ml di extra firming nui da provare che non dico che è una full size ma quasi quindi questo era un ottimo secondo me era un ottimo sconto poi vi faccio vedere magari prima la skin care anche perché ho altri due prodotti di skin care dopodiché passiamo totalmente al make up questo è un regalo inaspettato evidentemente questa persona sapeva che era da tempo che volevo provare qualcosa di questo brand si lo sapeva perché ovviamente gliel'avevo detto e mi sono mia mi è arrivata questa appunto crema che è piuttosto costosa del brand israeliano penso che sia israeliano sì quindi ahava non so come si pronunciano non ho mai capito se si pronunciava o ahava boh come gli ah ah le mie le coetane mi insomma mi capiranno insomma mi comprenderanno allora questa qui è una crema a parte il packaging ragazzi guardate stupendo in questo cofanetto color bordeaux bellissimo guardate che bello sembra uno scrigno di bellezza ed ecco la crema addirittura col mini cucchiaino no vabbè bellissimo regalo stupendo inaspettato anzi ringrazio questa persona non credo che mi stia ascoltando però e niente questo questo è il è la crema è una crema antiruga antiruga antirughe quindi adatta appunto per una donna come me io non ho letto gli ingredienti però penso che ava abbia degli ingredienti anche naturali molto buoni magari poi la farò leggere farò leggere lince giorgia che è molto esperta ok diciamo che questi sono stati regali dopodiché tutto il resto sono auto regali allora un giorno che ero alla medimarket perché dovete sapere che la crema viso è stata questa qui diciamo antiruga è stato un regalo molto apprezzato perché in realtà io sono sfornita di crema viso c'è molti sieri in scorta ma crema viso non ne ho per cui mi serviva anche una crema al giorno per cui un giorno sono andata alla medimarket e mi sono comprata una crema giorno la volevo un po ad effetto illuminante la mia scelta è ricaduta su questa di apivita questa b radiant crema segni dell'età e antifatica alla peonia bianca e qualcos'altro che però adesso non so tradurre eccola qui questa è una confezione da 50 ml penso di metterla in uso non dico subito ma quasi apivita è un brand che comunque a me piace tantissimo e non avevo avevo comprato dei cofanetti con delle mini taglie però non c'era una crema dentro i cofanetti per cui ho voluto prendermi una crema l'ho pagata la medimarket era scontata su circa sui 25 euro se non mi ricordo male ok dopodiché qui ho questo scatolone che viene appunto scatolone che cercherò di tenere perché ho intenzione di fare da qui a natale ragazze insomma spero di riuscirci perché poi non vorrei dire cose che poi non faccio prendermi degli impegni che poi non riesco a mantenere ma c'è sempre dentro di me l'intenzione di fare questa box antispreco poi mi dimentico vabbè sono così però ci sarebbe l'intenzione di fare questa box antispreco quando troverò il tempo sapete che ho una vita molto piena di declatterare un po di prodotti anche di skincare e di fare appunto una box antispreco con delle cose che magari non utilizzo più e spero di riuscirci insomma ok dopodiché qua ci sono dei campioncini vabbè questi non mi ricordo neanche dove chi me li ha dati chi e come quando perché ho mischiato le cose ragazze per cui non non ve lo so dire chi mi ha dato questi campioncini magari ve lo farò ve li faccio vedere alla fine poi acquisti che mi sono fatta io allora ragazze mi sono acquistata sul sito di pinalli perché c'era il il 3x2 e che c'erano degli sconti le cupizarro mi sono presa queste tre cupizarro tra l'altro mi è finita anche la berry e mi devo ricomprare anche la berry allora mi sono ricomprata la classica che è il marrone che è la numero 02 poi ho preso la nuova che è questa deep brown adesso non ve le apro ragazze perché sennò ci dilunghiamo troppo magari vi posso fare lo swatch della deep brown visto che è quella nuova e poi ho preso la numero 09 questa mi sembra sì che è la cappuccino però è un po chiaretta la cappuccino cioè perché dalle foto sembrava più scura invece un po chiaretta questa qui magari posso pensare di dove vediamo posso anche pensare utilizzarla sulle labbra se troppo chiara perché queste comunque sono matite multiuso però diciamo queste erano vecchie la novità è questa la deep brown quindi questa magari vi faccio lo swatch c'era il 3x2 praticamente sul sito di pinalli quindi ne ho approfittato e ho comprato appunto le cupizarro purtroppo le ho comprate prima di rendermi conto che la berry mi era finita eccola qui deep brown allora devo dire che come colore assomiglia tantissimo a quella di diego dalla palma la famosa la numero 60 più o meno è questo marrone scuro freddo questa la userò tantissimo mi piacciono a me le cupizarro sapete mi piacciono tantissimo l'unico difetto che gli trovo è che ogni tanto se si preme troppo ea me a volte succede perché io vado di fretta la mattina tra tutto quello che devo fare preparare mio figlio preparare me stessa eccetera dopo si spezza la punta e se la se perdi poi la mina e mi capita di perderla la cupizarro è da buttare e purtroppo mi è successo più di una volta e poi mi sono acquistata che lo volevo il biongelli nella colorazione luce io non ho preso la palette di nabla nuova la baby la side by side baby perché secondo me sapete che amo i toni freddi ha dei colori un po troppo caldi per i miei gusti però devo dire che è una bella palette però non l'ho acquistata e non l'acquisterò perché appunto secondo me ha dei toni troppo caldi questo è il luce vabbè non vi faccio vedere niente di nuovo perché questi sono usciti da un bel po però io ne ho già altri due e volevo questo più che altro perché è il colore perfetto da tutti i giorni questo color diciamo rosa ma non malva rosa rosa ragazze rosa rosa naturale poi bisogna vedere chiaramente che colore avrà sulle mie labbra perché io ho le labbra parecchio pigmentate quindi a volte li scurisco i prodotti labbra ecco anche i gloss i luci della labbra eccetera ok qui che ci sono vediamo che cosa ci sono mi sono stati dati dei campioncini però ragazzi io non so se vi farò vedere i campioncini magari se abbiamo se il video non viene troppo lungo alla fine vi faccio vedere i campioncini preferisco farvi vedere le cose che ho acquistato io per adesso i campioncini li metto via sì qui mi pare di avermi fatto vedere tutto andiamo a un ordine che avevo fatto tempo addietro dove ho acquistato cioè questo molto prima diciamo del sarà già passato un mesetto da quando io ho fatto questo acquisto sapete che ho una palettina di il salran le mini clutch ho la 400 la babylon rose volevo un'altra colorazione e mi sono preso un'altra colorazione e tenete presente che tutte queste cose ovviamente le ho pagate scontatissime tipo questa penso sui 50 euro l'ho pagata a prezzo intero costa molto di più questa è la mini clutch di il salran nella colorazione 100 che si chiama non mi ricordo stora dolls mi pare che è questo è questo quad appunto con questi marroni freddi molto bella devo dire l'ho già provata una volta vabbè mi piace tantissimo non penso di acquistarne più perché sono a posto così quella la rosa è perfetta mi piace da morire questa mi piace pure come colorazione mi piace più la rosa ovviamente però anche questa mi piace tantissimo le altre colorazioni non non mi fanno cioè non non sono tra le mie preferite per cui meno male non ne acquisterò più di queste poi cosa ho acquistato ho acquistato vabbè questo lo avete visto nel video scorso perché vi ho fatto il video applicazione ho acquistato il nuovo fondotinta l'ho preso nella colorazione 04 l'ho già testato mi piace molto e sono contenta di averlo acquistato eccolo qui magari vi linko il video applicazione se lo volete vedere per chi non l'avesse visto e questi sono due prodottini che avevo acquistato forse già un mesetto fa poi su zalando zalando mi ha inviato praticamente dei degli sconti di compleanno mi sono acquistata questa terra di mac di cui aveva parlato bene la testa tra le nuvole e patrizia ciao cara se mi stai ascoltando solo che lei aveva preso la versione radiant e nella colorazione medium golden io invece su zalando non l'ho trovata avevo lo sconto compleanno volevo volevo questa terra ho preso la versione matt nella colorazione medium rose che è questa terra devo dire mi piace non è molto pigmentata ma questo fa sì che depositi un velo di colore sul viso molto bello e molto naturale e poi con questo blush di cui ho già parlato anche su instagram è successo un quiproquo è uno dei glow play blush di mac quindi questi blush in crema che poi però sulle guance risultano un po' un cream to powder e con questa texture bouncy che di cui avevo già una colorazione che era il blush please ho voluto prendere una colorazione più naturale anche se preferisco le colorazioni più accese in realtà volevo quella rosa fredda ma non c'era esaurita allora ho ripiegato per comunque per un blush naturale perché comunque non ne ho e la colorazione è questa solo che è successo e l'ho già raccontata questa cosa su instagram è successo un inconveniente nel senso che quando io praticamente l'ho aperto ho tolto questa plastichina che vedete qua il blush si è staccato dalla cialda e dalla scusate dalla plastichina dalla confezione è rimasto attaccato qui sulla plastichina poi l'ho dovuto ristaccare hanno questa texture bouncy quindi l'ho riappiccicato sostanzialmente alla confezione e mi era venuto il dubbio che il lotto potesse essere vecchio in realtà sono andata a controllare sul sito di check fresh come faccio in genere ma il lotto non è assolutamente vecchio per cui poi ho deciso di non rifare il reso ok basta direi questo su zalando mentre invece non mi ricordo neanche dove l'ho comprata queste cose ragazze perché passato un po' di tempo mi si sono mischiate un po' le scatole per cui niente allora mi sono voluta prendere questo forse su sensation quando avevo acquistato il cofanetto penso di sì sì ci ho messo un'altra cosa e mi sono acquistata praticamente il bronzer in stick di diego dalla palma questo ce l'avevo un wish list da tantissimo tempo nella colorazione 51 non lo so non leggo perché sono cercata ecco purtroppo l'età non vederci più nulla da vicino da lontano ci vedo benissimo questa è la colorazione non sto a swatcharvela ragazze perché ci sono a parte che di questo stick ne hanno parlato tantissimi youtuber e quindi questo è molto adatto per fare il contouring perché sapete che ho comprato quelli di revolution avevo comprato la colorazione più chiara e mi piaceva abbastanza poi ho acquistato la colorazione medium e ragazze non mi piace per nulla mi fa piazza no no per carità non mi è piaciuto per cui questo poi andiamo a dunque sì allora pat mcgrà lo lasciamo all'ultimo così facciamo un discorso questo ve l'ho fatto vedere poi vi devo far vedere queste cosine queste cosine faccio un po' a mente locale per se no magari mi dimentico di farvi vedere le cose allora ho fatto un ordine sul sito di sabbioni ma non mi ricordo se questi li ho comprati su sabbioni andiamo bene ad ogni modo ragazze io ho preso due ombretti liquidi di armani dove l'ho presi non mi ricordo più vuoto totale comunque scontatissimi tipo l'ho pagati sui 25 non mi ricordo forse sul sito di pinalli forse c'è troppa roba e mi sto confondendo e di cui uno è il famoso ombretto color melanzana che indossavo nel video scorso che è piaciuta a molte di voi eccolo qui l'ho acquistato in due colorazioni una quella più neutra la indosso in questo momento ho fatto questo trucco con questo ombretto sfumato semplicemente nella piega sono quegli ombretti one and done perfetti per la vita di tutti i giorni cioè la vita che faccio io poi ho messo un po' di matita nera l'ho sfumata ho messo fatto la riga interna di matita ed è venuto fuori questo trucco molto elegante e sofisticato da tutti i giorni secondo me allora l'ombretto che ho messo oggi è questo che è la colorazione numero 10 s si chiama questi scusate non ve l'ho detto questi si chiamano 18th questa è la colorazione cesnut qua c'è scritto cesnut sì se c'è scritto cesnut 10 s ve la swatcho spero che si veda bene considerate che ho una luce artificiale qui però spero che si veda bene questa quindi è quella che indosso e poi metto qui e poi vi faccio vedere quella che avevo nel video appunto che è piaciuto che è il famoso color bordo scuro me la barra melanzana che è il numero 56 s e è la colorazione mahogami sì eccola qui mahogami spero che si veda eccolo qui bellissimo questo ombretto ragazze poi se volete vedere l'applicato come sta sull'occhio appunto andate a guardare quel video eccolo qui poi ovviamente io l'avevo sfumato comunque l'ombretto è questo ciao paola mi sembra che voleva sapere era curiosa di sapere se mi sto ascoltando ti mando un saluto è questo l'ombretto che indossavo nel nel video sull'applicazione del fondotinta di clarence ok spero di non macchiare bellissimo questo colore ragazze non so se rende proprio ma dal vivo ma cioè dicevo non so se rende in camera ma dal vivo è stupendo bellissimo stupendo vado veloce perché mi sta venendo il video lunghissimo poi mi sono acquistato campioncini non ce la faccio a farveli vedere se no penso che facciamo un video troppo lungo allora sul avevo fatto un ordine sul sito di sabbioni perché mi volevo comprare di nuovi prodottini di astra e mi sono acquistata appunto il nuovo lip gloss di astra astra questi qui li ha fatti in due nuove fragranze diciamo io ho preso questa che dovrebbe essere il lip oil nella fragranza mentolata io ho già quello nella versione pesca mi piacciono tantissimo quindi mi piace tantissimo con l'ip oil per cui l'ho voluto acquistare e poi naturalmente due rossetti nuovi questi sono nuovi rossetti matt di astra che stanno facendo un po' vedere molte youtuber e io li ho presi nella colorazione 05 rosewood e la colorazione 06 cherry quindi questi ve li swatcho perché tanto io adesso questi comincio subito a metterli quindi questo questo è un bel rosa freddo come piace a me questa è la colorazione 05 rosewood vediamolo qua e poi la colorazione 06 cherry che dovrebbe essere sempre fredda però un po' più scura beh sicuramente diciamo un po' più più calda però non è calda ecco questa qui belli tutti i colori stupendi devo dire il finish mi piace moltissimo belli questi rossetti di astra minima spesa massima resa io per i rossetti non amo spenderci cifre esagerate perché sapete che non è il mio prodotto preferito in assoluto poi vabbè vari campioncini mi hanno dato questo molto interessante devo dire questo campioncino di erborian la centella acne anche se io non ho l'acne però di erborian non ho provato niente per cui mi intrigava poi questo mi è piaciuto tantissimo mi hanno regalato questa crema di elena rubinstein elena rubinstein è un brand di cui non si parla più io mi ricordo che da giovane acquistavo ho provato diverse volte il fondotinta l'ho acquistato diverse volte perché mi ci trovavo bene questa è la replasti age recovery dovrebbe essere una crema viso in un campioncino da 5 ml quindi comunque uno si può portare anche in giro insomma poi vabbè i soliti campioncini di profumo chloe ragazze acqua allegoria di gerlen e vabbè poi altri campioncini che comunque sempre più o meno le solite cose che danno nelle profumerie poi ho acquistato un giorno che sono il giorno che sono andata da primark ho fatto un salto da sephora karim me lo ha concesso mi sono presa questo set di pennelli della linea di sephora collection questi sono quelli della versione glitter nella versione glitter power poi c'era anche la versione normale così vabbè ho voluto prendere questi io ne ho già un altro set di pennelli di sephora collection e mi piacciono per cui li ho voluti acquistare poi vi farò sapere e poi mi sono voluta prendere questo cofanetto ragazze perché sapete che i gloss bomb di si si chiamano gloss i gloss bomb di fenty beauty sono i miei gloss forse preferiti in assoluto anche se mi piacciono molto anche quelli di diego dalla palma e quindi mi sono voluta prendere questo cofanetto con questi tre gloss uno trasparente nella versione heat quindi quella che pizzica quella volumizzante poi c'è una nuova colorazione questa è una nuova colorazione che si chiama questa è inedita comunque adesso perdo troppo tempo per dirvi il nome ah no sono qui il pink dragonfly questo qui e poi nella versione cream che io non ho non ho mai provato c'è il classico fenty glow bellissimo questo cofanetto e me lo sono voluto portare a casa dopodiché e siamo già a 30 minuti di video un giorno fuori dall'ufficio io alla profumeria ethos a volte in pausa pranzo vado a fare dei giri e niente praticamente hanno messo uno stand con la linea makeup di estetista cinica io non ho particolare simpatia per estetista cinica però mi attirava di provare qualche prodotto quindi mi sono presa due prodottini ho preso un ombretto in stick un ombretto in stick e una matita marrone perché sono comunque prodotti che utilizzo di più questo devo dire l'ombretto in stick l'ho preso eccolo qui ombretto stick matitone questo l'ho preso nella colorazione no qui non si legge ma infatti anche il commesso non ci capiva niente con le colorazioni perché non c'è scritto niente sulle scatole ci ha messo un casino a trovarmi l'ombretto perché io ero anche in ritardo perché ero dovevo rientrare in ufficio perché non estetista cinica non ha scritto un cavolo fuori da queste confezioni quindi non si capisce comunque questo diciamo bronzo chiaro ve lo faccio vedere spero che si veda bene più o meno questi sono i colori che utilizzo tutti i giorni quindi volevo provare un ombretto in stick anche se anche quelli di Kat Von D vorrei provare però adesso diciamo che fino al Black Friday vorrei stare un attimino buonina e poi la matita marrone ce ne sono tre nera marrone un altro colore che forse mi sfugge forse blu non mi ricordo perché ero in pausa pranzo e andavo di fretta una classica matita marrone questa mi pare che l'ha fatta vedere Patrizia la testa tra le nuvole quindi testeremo anche qualcosina di estetista cinica non ho intenzione di comprare altro perché boh non sinceramente non va bene così gli ho già dato troppi soldi estetista cinica ecco poi mi hanno regalato un campioncino del Dior Forever Taint Taint questo non so che versione è il Dior Forever classico nella colorazione 2N neutral anche se io vorrei provare il non mi ricordo quello glow non mi ricordo il nome ragazze perdonatemi sono molto sono pessima su queste cose eccolo qui carino il campioncino del Dior forse il natural nude che adesso guarda mi sfugge il nome ma lo so una ragazza che mi segue con affetto su Instagram mi ha detto che è bello luminoso come piace a me ecco Rossella sì ecco ciao Rossella ti mando un bacio se mi stai ascoltando allora e poi mi hanno dato l'esteloder il double wear però ragazze steloder sapete che sono andata a swatchare il fondotinta insiero non mi ha colpito perché lo trovo non lo so non l'ho trovato così leggero l'ho trovato sì fondotinta l'ho swatchato sulla mano è levigante sì però opaco troppo opaco per i miei gusti se vi piacciono i fondotinti opachi magari potete andare a dare un'occhiata troppo opaco per i miei gusti e soprattutto poi ne parlavamo anche con Giorgia di questa cosa le colorazioni di esteloder non sono un granché sinceramente scusatemi questo cos'era non lo so va bene comunque questo andiamo all'ultimo ordine questo è l'autoregalo che mi sono fatta per eccellenza che è questo ordine che ho fatto sul sito di Pat McGrath e che purtroppo come avrete letto dal titolo e chi mi segue su Instagram lo sa mi ha fatto questa brutta sorpresa della dogana ecco qui prima vi parlo un po' di questa cosa della dogana poi in ultimo vi faccio vedere i prodotti senza dilungarmi troppo perché già siamo a 34 minuti questo è il pacchetto qui dentro come potete vedere Pat McGrath qui dentro ci sono i prodotti adesso tolgo un attimo i prodotti e ve li faccio vedere dopo e vi faccio vedere la dogana cercando di un attimo dove è il mio nome vediamo dove è il mio nome aspettate cercare di vedete custom declaration quindi io su questo pacco che viene dal sito di Pat McGrath sito americano io ho pagato la dogana allora io sono rimasta male perché si è sempre detto qui sul web su Instagram su YouTube l'ho sempre sentito che su Pat McGrath non si pagava la dogana falso perché io l'ho pagata allora diciamo che nel senso è colpa mia che non mi sono informata io da fonti ufficiali se nel caso in cui il pacco rimanesse fermo in dogana appunto io mi dovesse accollare le spese doganali e quindi sostanzialmente è colpa mia che non lo sapevo però ecco siccome si dice tanto che sul sito di Pat McGrath la dogana non si paga ragazzi non è vero perché come potete vedere ve l'ho fatto vedere io ho pagato la dogana e ho pagato 38,50 euro di dogana su un ordine del valore di 175 euro che però io non ho pagato perché ho applicato uno sconto di una youtuber americana quindi io alla fine ho pagato 140 euro però diciamo il valore dell'ordine era di 175 euro e appunto ci ho pagato la dogana allora devo dire che questo ordine è partito male fin dall'inizio io ho ordinato praticamente il giorno dopo quando dopo che era uscita la nuova collezione questa Brilliance Bijoux Collection dove ho acquistato appunto dei pezzi di questa collezione quindi c'era questo nuovo lancio probabilmente il sito era intasato di ordine ho fatto l'ordine il 30 di settembre e la merce mi è stata spedita il 5 ottobre in genere io avevo fatto già altri ordini sul sito di Pat McGrath e devo dire che mi ero trovata sempre bene in due settimane mi era sempre arrivato tutto invece qui c'è stato qualche inghippo perché innanzitutto il tracking sul sito che ha sempre funzionato correttamente non funzionava quindi io cliccavo su track your order e mi diceva che il tracking non era disponibile quindi poi dovevo ricopiare il codice andare sul sito i global eccetera e lì vedevo il tracking a un certo punto questa merce guarda caso è rimasta era nei paesi bassi verso 15 giorni 20 giorni era lì ferma nei paesi bassi e già lì mi è venuto paesi bassi quindi dogana Europa dogana e però ovviamente speravo di no fatto sta che per una settimanina è rimasta ferma lì dopodiché è stato consegnato a me è stato consegnato il 25 il 26 di ottobre non mi ricordo quindi due tre giorni fa e appunto me l'hanno consegnato a casa di mia mamma e quando è arrivato il postino appunto è stato chiesto a mia mamma c'era anche mio figlio in quel momento signora deve pagare 38 euro e 50 poi io quando sono arrivata a casa appunto mi sono resa conto che era la dogana allora apriamo la parentesi sul sito sul discorso dogana del sito di Pat McGrath allora intanto è stata colpa mia perché chiaramente non mi ero informata nella maniera giusta però poi io successivamente sono andata a guardare per togliermi questa curiosità sul sito e magari vi lascio se riesco e se la trovo vi lascio uno screenshot di quello che c'è scritto sul sito di Pat McGrath riguardo all'eventualità di dover pagare delle spese doganali che sia la FAQ dove spiega appunto diciamo parla del discorso della dogana sia un pochettino ambigua e nebulosa non c'è scritto chiaramente che nel caso in cui la merce rimanga ferma in dogana è il venditore che si accolla scusate è l'acquirente quindi in questo caso io che mi accollo la spesa perché sapete che ci sono molti siti che nel caso in cui appunto succeda l'inconveniente che la merce resti ferma in dogana si accollano le spese quindi Pat McGrath non si accolla le spese della dogana perché io l'ho pagato però è stata colpa mia che non mi sono informata da fonti ufficiali e però anche se mi fossi informata prima da fonti ufficiali cioè dal sito di Pat McGrath non ci avrei capito granché perché quel messaggio diciamo quella 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 fac sulla dogana sul sito di Pat McGrath scritta in inglese che però insomma più o meno ho capito che cosa vuole dire sinceramente non è per niente chiara perché dice ogni paese decide qual è il suo dazio doganale bla 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 e noi non siamo responsabili se non del valore della merce indicato al check out e non di altre cose quindi molto nebuloso devo dire quindi questa cosa non mi è piaciuta io non acquisterò più sul sito di Pat McGrath ragazze questo è il mio quinto ordine ed è l'ultimo ordine che faccio e quindi insomma questa è stata l'esperienza negativa poi la merce è arrivata intatta integra però esperienza negativa quello che voglio dire è questo essendo che mi è capitata questa cosa io mi sono un attimino informata un pochettino sulla dogana perché è la prima volta che mi capita una cosa del genere e ho capito qualche informazione che vi voglio passare allora tenete presente che io non ho letto la legge perché per dare delle informazioni corrette bisognerebbe leggere sì la legge però purtroppo non ho tempo di leggermi la legge ragazze e quindi insomma vi do queste informazioni che ho capito da questa esperienza allora le merci qualsiasi tipologia di merce quindi anche le merci di make up ovviamente possono rimanere ferme in dogana questo per la dogana non è altro che appunto un discorso di controllo sulle importazioni e di protezione appunto del commercio internazionale ha questa funzione di protezione del commercio internazionale le merci che vengono oltre ceno chiaramente vengono devono essere rigorosamente controllate sia dal punto di vista dell'illecceità cioè non devono entrare merci illeciti all'interno del paese per esempio perché appunto in Europa ci sono delle normative particolari su componenti dannosi dei cosmetici eccetera e sia vanno controllati a campione o meglio inoltre vengono anche controllati a campioni a campione perché sapete che in Italia c'è l'iva di conseguenza noi dobbiamo pagare l'iva sulle importazioni quindi viene applicata una sanzione indogana nel momento in cui l'impiegato indogana può verificare che all'interno del pacco c'è della merce illecita allora in quel caso è una sanzione ok quindi una sanzione amministrativa tributaria ok in questo caso siccome la merce era lecita erano dei cosmetici che potevano tranquillamente entrare nel territorio dello Stato io non ho fatto altro non hanno fatto altro indogana che applicarmi sulla merce l'iva sulle importazioni sui cosmetici l'iva è al 22% quindi siccome il valore iniziale della merce era di 175 euro il 22% di 75 euro è scusate di 175 euro è 38 euro e mezzo quindi io ho pagato 38 euro e mezzo di dogana sostanzialmente ho pagato l'iva sull'importazione su questa merce e si calcola diciamo non considerando gli sconti perché io in realtà poi questo ordine l'ho pagato 140 perché ho applicato il 20% dell'influencer di sconto dell'influencer americana quindi questo magari spero che sia un'esperienza che ho avuto io che vi possa essere utile se decidete di acquistare di oltreocena per capire come calcolare le spese doganali nel caso in cui la merce sia lecita viene applicata semplicemente l'iva al 22% sul valore totale dell'ordine insomma della merce ok senza tenere tenere in considerazione gli sconti che vengono applicati e niente quindi questo quindi questo vi può dare mi può far capire come calcolare delle eventuali spese doganali e quindi mettere sul piatto della bilancia se vi conviene acquistare perché io non lo so se avrei acquistato ragazze se avessi saputo di dover pagare quasi 40 euro di dogana perché alla fine mi sono mangiata gli sconti anzi forse ci ho aggiunto anche qualcosa in più del 20% dell'influencer non lo so magari ci avrei pensato però ecco io non acquisterò più sul sito di Pat McGrath non perché il mio pacco è rimasto fermo in dogana perché comunque è stata colpa mia che non mi sono informata e che mi sono fidata di quello che si dice su youtube di quello che si dice su instagram senza guardare alla fonte ufficiale però non acquisterò più sul sito di Pat McGrath perché secondo me un sito di make up così importante come il sito di Pat McGrath deve essere più chiara nelle fac che riguardano la dogana e scrivere chiaramente cioè proprio una frase dove si evince senza alcun dubbio che nel caso in cui la merce rimanga ferma in dogana l'acquirente si accolla alle spese a disposizione quindi è questo il motivo per cui io non acquisterò più non perché il mio pacco è rimasto fermo alla dogana ma perché ritengo che ci deve essere chiarezza e secondo me quella fac non è per niente chiara poi magari se mi ricordo vi faccio lo screenshot altrimenti potete andare tranquillamente sul sito di Pat McGrath nelle fac c'è una semplice fac che parla di dogana ve la leggete e vi rendete conto magari di quello che sto dicendo e magari mi potete dire se siete d'accordo o meno con me ok quindi questa è stata la mia esperienza negativa che vi volevo riportare però adesso vi faccio vedere il ben di dio del sito di Pat McGrath anche perché è l'ultimo in assoluto non credo che poi acquisterò neanche più cose di Pat McGrath diciamo per quanto riguarda anche sui siti di Sephora perché costano una follia sul sito di Pat McGrath sono più convenienti e quindi insomma per quello magari ho acquistato per cui non lo so ad ogni modo ragazzi ho voluto acquistare due pezzi due palettine di questa nuova collezione Bijou Brilliance Collection che è questa holiday 2024 guardate il packaging questa è la scatola esterna di questa palette grande questa è una palette viso occhi qui sono sia degli ombretti che delle polveri dei blush guarda che bella in questi toni del viola sapete quanto amo il viola rosa viola questo è un packaging secondo me stupendo vediamo che ore sono sono già le 3.20 perché dobbiamo andare devo portare mio figlio a giocare a calcio e questa è la palette allora io sostanzialmente l'ho presa per questo shimmer viola che aveva fatto vedere lei Pat McGrath in un reel adesso non ve li posso swatchare ragazze perché siamo già a 45 minuti di video comunque ci sono diverse texture all'interno di questa palette questa è la versione vabbè perché ce n'è anche un'altra comunque questa è la versione con il viola non vi potete sbagliare questi sono gli shimmer poi ci sono dei metallici che sono questi due i matt anche questo e poi questi blush ragazzi questo in questa terra bruciata un po' più chiara e questo un rosa un po' pescato chiaro non vedo l'ora di provarla e poi ne ho voluta prendere una questa una di queste a quattro colori perché ne ho un'altra e mi ci trovo da dio con queste piccoline sempre di questa bijou brilliance collection eccola qui pat mcgrà no vabbè stupenda però purtroppo non ne acquisterò più e questa è l'altra questa secondo me è forse ancora più forse mi piace ancora di più dell'altra l'altra l'ho presa per il viola sostanzialmente per i blush questa guardate ha questi verdi stupendi e questo viola questo mi sembra che è un matte sì questo è un matte che non si capiva bene dalla cialda questo viola matte e poi questi questi qui sono degli shimmer questo un rosa shimmer questo verdone più scuro questo verde acqua questo vediamo questo champagne super riflettente no vabbè stupenda poi mi hanno regalato un illuminante facciamo conto che ci ho pagato l'ho pagato ci ho pagato la dogana questo costa 50 euro a prezzo intero questo me l'hanno regalato nell'ordine proprio era compreso se superavi una tot cifra ti regalavano questo illuminante io devo dire che non ha non sono una tanto da illuminante però vabbè cavaldonato non si guarda in bocca mi hanno regalato questo bellissimo illuminante che vi faccio vedere bisognerebbe provarlo forse adesso scusate lo faccio vedere magari sguocciato sull'altra mano questo è l'illuminante e poi ragazzi mi sono presa due ombretti liquidi perché sapete che sono nel nel periodo degli ombretti liquidi eccoli qua e ho preso la colorazione twilight platinum mi pare che si chiama che è questo grigio con dei riflessi lilla però particolari no non è questo l'altro aspettate che ve li apro sì è questo eccoli qua questi vi faccio lo swatch dopo direi che abbiamo finito questo è questo grigio però che ha questi riflessi un po' che virano sul lilla quindi in particolare questo ombretto liquido sapete appunto che sono nel mood degli ombretti liquidi e poi ho voluto prendere un marrone non troppo caldo perché non mi piacciono appunto i marroni troppo caldi che è questo che è la colorazione allora quello lì si chiama twilight platinum questo qui invece si chiama aspettate che ve lo dico platinum bronze comunque se c'è qualcosa che non vi ho detto all'interno di questo video perché come al solito è lunghissimo e non mi posso dilungare bene su tutto voi scrivetemelo nei commenti e io vi rispondo senza problemi eccolo qui bellissimo anche questo ecco direi che mi sono data abbastanza fondo questo mese poi vabbè ci sono stati ovviamente i miei regali di compleanno mi sono voluta un po' gratificare appunto per questi 53 anni adesso vorrei stare ferma fino al black friday comunque non manca tanto manca un mese però magari ecco tenere buono uno stipendio e e nulla niente ragazzi fatemi sapere se il mio shopping vi è piaciuto più che altro spero di esservi stata utile con questa esperienza che ho avuto sul sito di Pat McGrath in modo che voi possiate valutare e fare degli acquisti più consapevoli sul sito io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video ciao a tutte e a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti